Buon pomeriggio, pomeriggio a tutti voi signori miei Ho buscato un terribile raffreddore, perdonate quindi il mio tono di voce La mia sale che già ho problemi io con respirazione Pazienza, pazienza Quando si va in mood, pausa nazionale, tutti i mali convergono verso lo zioneschio Ma questa è comunque una seccatura di poco conto Se la andiamo a confrontare, a paragonare con quella che oggi ho letto sui giornali No, sulle varie testate, gazzetta su tutti Ultimatum, piace utilizzare questa parola, ultimatum a Brozovic Ecco, al di là di quanto questa notizia stia cavalcando l'onda Proprio per una questione di tempisti che non c'è un cavolo Però adesso veramente va risolta No, cioè veramente adesso, al di là di tutto Questa diventa una situazione delicata Molto, molto, molto delicata in casa Inter Assolutamente Ne parliamo insieme Prima come al solito voglio però invitarvi a lasciare un like Per supportare il lavoro Iscrivervi per seguire i prossimi contenuti di questo canale Che saranno molto carenti durante la pausa nazionale Perché lo sapete perché non mi piace stare lì a parlare del nulla cosmico Se non c'è qualcosa Però iscrivetevi Perché poi parliamo della nazionale Vediamo le partite Quello che c'è da lì diciamo E scaricate OneFootball Perché comunque Qualche news Quella assolutamente Grazie a OneFootball Non ce la perdiamo H24 Sempre aggiornati Notifichina No aggiornamento C'è di tutto ed è tutto Tutto gratuito Quindi scaricate la tramite link in descrizione O tramite QR code Basta scannerizzare Sapete meglio di me Come si fa ragazzi Sto qui a cibarvi Qualcosa di cui magari sono meno Pratico Allora Scherzi a parte Ho trovato appunto Ultimatum Brozo Ce l'ho trovato su Sportmedias L'ho trovato sulla gazzetta L'ho trovato su Eurosport Ho trovato questa Ultimatum Brozo Ecco Al dirà veramente di quanto questa situazione Abbia assunto Una certa Un certo impatto mediatico Però questo veramente Come dicevo prima È un qualcosa che va Va approfondito Va approfondito Perché è vero che l'Inter Ha lavorato bene Benissimo direi Sull'Autaro Su Barella Rinnovi importanti Come li chiamano adesso No? Asset Per Per il proprio club Di livello importante Per il futuro Va bene Ok Perfetto Ma Brozovic non è da meno Brozovic è un giocatore Che non è da meno E perderla a zero E questo rischio ragazzi Inizia a esserci Io ho un po' Un po' di timore Un po' di Un po' di apprezzione Su sto ragazzo Che sapete Quanto io lo adori Ma quanto mi piace Marcello Brozovic Epico per davvero Assolutamente Ma al di là di questa Della simpatia Che nutro per il giocatore Ma soprattutto Per il valore Il valore del giocatore Per la professionalità Per la qualità Perché Ragazzi In passato In passato Io ce l'avevo con Marcello Perché Guida in strato Da brezza Se non sbaglio Una mezza volta Si è fatto ritirare La patente Chi era lui Lui o Nainggolan Non mi ricordo neanche ormai No Pazzi scalmanati Però ragazzi Io ricordo che Da quando Spalletti L'ha messo davanti Alla difesa Brozovic Veramente un giocatore Un giocatore Di cui l'Inter In questi anni Abbiamo visto L'abbiamo visto Cioè Basta guardare le partite Dell'Inter Un giocatore Di cui l'Inter Non può fare Proprio a meno L'Inter Di Marcello Brozovic Non può fare a meno Gli altri Meno male Poi cercate Ma un giocatore Con le caratteristiche Di Brozovic In mezzo al capo L'Inter non ce l'ha Cioè O Marcello Brozovic Oppure Devi andare sul mercato E quindi la domanda È molto semplice Molto banale Se vogliamo Ok Non rinnovi Brozovic No Per una questione Non ti puoi Va bene Ma Sulla Sulla piazza Sul mercato Appunto Scouting Siamo capaci Di andare a prendere Un giocatore Low cost Che ci possa rendere Come Marcello Brozovic O un pochettino meno Non voglio fare neanche Il permalo Un pochettino Siamo capaci Non lo so Io credo Io credo Che non sia facilmente Sostenibile Uno come Come Marcello Brozovic Lo dicono i numeri Lo dicono le statistiche Lo dice il campo No Giocatore che Ha corso Ha corso Quando in tanti ancora Non capivano il lavoro Che faceva Brozovic In mezzo al campo E dicevano che fosse indolente Quando in realtà Era il giocatore Che correva più di tutti In Serie A E lo dicono i numeri Un giocatore che tocca più palloni Nell'Inter E lo dicono i numeri Ripeto Questo giocatore Va rinnovato Va rinnovato Cioè va fatto di tutto Io Quello che leggo L'Inter pronta a offrire 4 milioni e mezzo Come a Barella In passato mi pare che Si era arrivato addirittura 5 Adesso c'è mezzo milione E meno Come funziona? Non lo so Il giocatore Ne chiede 6 Ecco Io non so se Questa è la verità Perché è inutile Che sto qui a dirvi No no ma io so Io fanno Non lo so Io vi dico quello che leggo Se fosse così Va bene Magari dico Rinnoviamo a 6 milioni Ma magari Eh ma dai Più di Barella Che Non c'è da far confronto Ragazzi Innanzitutto Barella 24 anni Brozovic 16 novembre 29 anni Brozovic Questo è l'ultimo contratto Importante Che può Chiedere Ad una società di calcio Ed è normale Anche che si guardi attorno Ragazzi È inutile che stiamo qui No A pensare che i giocatori Pensino soltanto Al bene della propria squadra Quindi Brozovic Interista Sino all'osso Farà di tutto L'impossibile No Lui Da professionista Qual è 29 anni Adesso è nel pieno Ma proprio pieno Al culmine E Si guarda attorno Cioè Se l'Inter Non lo accontenta Si guarda attorno Anche perché È un giocatore del genere È normale che ci siano Top club L'altro giorno si parlava Di Tottenham Ma oggi si parla Di PSG E di Atletico Madrid Si guarda attorno E lo perdi Da qui a due mesi Se non lo accontenti Lo perdi Lo perdi Perché stiamo parlando Di un giocatore importante Ecco perché Risolviamo Sta situazione Risolviamola per davvero E spero che il giocatore Venga Venga accontentato Perché ripeto O Sei Un mago Nello scouting E abbiamo visto squadre Che sono riuscite a fare Dei miracoli assurdi Un esempio Il Napoli O Hai giuntoli Che con 500.000 euro Di prestito 500.000 euro Di prestito Ti va a prendere Zarbonghi E il Napoli Adesso non lo toglie mai Dal campo Ma mai Dal campo E tra l'altro A metà dello stipendio Ancora lo paga il Fulham Al Napoli Fantastico Veramente un'operazione Capolavoro O Hai Questi maghi Nello scouting Nell'andare a A tastare A trovare giocatori Oppure Devi Devi lavorare così Perché Perdere Brozo Ci veramente Sarebbe Sarebbe Una perdita grave Secondo me Una Una perdita grave Si parla Ripeto In questo momento Si parla Della società Di 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 Alcune situazioni Si parla Di Onana Gennaio Oppure Si vedrà Sto sendendo Di tutto di più Ma credo che Veramente La priorità In questo momento Deba essere Marcello Brozovic E Il fatto però Che si sia E chiudiamo Si sia arrivato Si sia Andati per le lunghe Abbastanza per le lunghe Non promette Nulla di buono Ecco Io dico la verità Devo essere sincero Non promette Nulla di buono Poi Questo ultimatum Dell'Inter A Brozovic Ha messo Di farsa Cioè Vi dico la verità A me Non quadra Neanche Cioè E' l'Inter Che deve fare Di tutto Per trattenere Brozovic Cioè Brozovic Se fosse vero Che ti chiede 6 milioni Sei tu Che devi Fa di tutto Per Accontentarlo Perché Ripeto Il giocatore Più tempo Passa Si guarda Attorno Le offerte Per 6 O più Milioni Li trova Da un altro Club State tranquilli Che li trova Trova Chi glieli Da Quindi A me Suona anche Strano Sto discorso Di ultimatum Dell'Inter Come suona strano Il fatto Che Ci sia rimasto Davvero poco Tempo Per chiudere I conti Con sto ragazzo E chiudiamoli Chiudiamoli Facciamo di tutto Davvero per tutto Perché Non vorrei Non vorrei Vedere Un'Inter Senza Marcello Proso Onestamente Non vorrei Vederlo Sta cosa Mi inizia Un pochettino A Preoccupare Vediamo un po' Fatemi Ragazzi Mili Sapere Cosa Pensate Voi Commentate Like Se volete Iscrivetevi Al canale Fate Un grande Abbraccio Adesso